Stavamo parlando di amicizia sul fatto anche di essere fortunati, aver trovato tanti amici dopo tanti anni e di aver ricavalcato l'onda perché non tutte le generazioni hanno avuto questa fortuna di trovarsi poi dopo tanti anni trovare la propria musica e i propri amici che avevano lasciato 30 anni fa, siamo stati molto fortunati, magari c'è chi può anche dire ma come 50 anni sei lì che hai ancora i capelli lunghi e vai ancora a ballare, il cavallo è l'onda, cosa voglio che ti dica, mi guardo tipo, oppure c'è qualche uno che ti dice non sei cambiato per niente c'è c'è sempre l'aspetto che avevi a mentale, non lo so però sempre quello lì, un ragazzo lì mi sento ancora un ragazzo del Columbus lì mi sento ancora un ragazzo dell'advento